Salgono a 122 i pazienti covid ricoverati nelle rianimazioni contro i 104 posti letto riservati all'emergenza coronavirus. La Puglia si trova costretta così ad utilizzare anche una quota di 275 posti letto di terapia intensiva che dovrebbero essere dedicati ad altro tipo di urgenze. Una situazione che si riflette in maniera speculare anche nella provincia Bat. I 12 posti letto di terapia intensiva all'ospedale covid di Biceglie sono tutti occupati e le postazioni della rianimazione del di Miccoli di Barletta convertito in ospedale covid solo due giorni fa stanno seguendo rapidamente lo stesso destino. Ben sette terapie intensive sulle otto disponibili risultano già occupate. I pronto soccorso della provincia continuano a riempirsi di positivi al covid e le ambulanze sono spesso costrette ad attendere diverso tempo prima di poter procedere al ricovero dei pazienti. La loro sistemazione tra gli ospedali di Biceglie, Barletta e Canosa è il rebus quotidiano che sono costretti a risolvere i responsabili delle strutture sanitarie dove il personale ospedaliero si sta rivelando numericamente insufficiente ad affrontare il picco della pandemia. Intanto in quasi tutte le città della Bat i sindaci stanno firmando ordinanze ulteriormente restrittive rispetto alle misure anti covid previste dall'ultimo DPCM. Ad Andria dove le persone attualmente positive hanno superato quota 650 il sindaco Giovanna Bruno ha disposto la chiusura delle scuole elementari e medie sino all'11 novembre per attività di sanificazione. Lo stesso provvedimento è stato assunto dal sindaco Amedeo Bottaro nella città di Trani dove gli attualmente positivi si stanno avvicinando rapidamente a quota 200. A Barletta il conto dei positivi ha superato i 250, a Biceglie si è andati oltre la soglia dei 100, a Canosa sino a ieri erano 62. Nei comuni più piccoli Trinitapoli ha raggiunto quota 47 attualmente positivi, San Ferdinando 40, Minervino 34, Margherita di Savoia 30, Spinazzola 20.